Treviso a piedi, 480 trevigiani dicono sì incondizionatamente. E questo è il risultato del sondaggio realizzato su internet e diffuso oggi da Casugana, che a forza del consenso ha deciso di andare avanti. 700 voci sui più o meno 7000 abitanti entro le mura. Però 700 cittadini sono meno del 10% del totale. Ma infatti oltre a questo abbiamo promosso anche altre forme di consultazione come le assemblee pubbliche e soprattutto, è una domanda molto pertinente, sui grandi temi, le diverse piazze, le diverse vie verranno concertate nuovamente con i commercianti, con i residenti dei diversi luoghi della città. Intanto da agosto passano a zone traffico limitato Piazza Rinaldi, Ponte San Francesco, Teatro Dolphin, Via Campana e Piazza San Vito e Via del Municipio. Poi toccherà da settembre Piazza San Leonardo, Piazzetta dei Battuti e Piazza Sant'Andrea, Riviera Margherita, ma anche Via Sant'Agostino, Via Roggia, Via Manin e Via Carlo Alberto. Niente transenne ma fioriere con segnaletica in parte già montata, mentre già si pensa ad una rivoluzione nell'arredo urbano, con ad esempio Piazza Rinaldi, Alberata e senza ciottolato. E a proposito di rivoluzioni, cambiamenti anche per il put. Primo sarà proprio a brevissimo Marco Manzoni, poi Porta Carlo Alberto. Il put sarà penetrabile dai mezzi appunto di trasporto pubblico e quindi si infrange di fatto anche un sistema che in qualche modo ha contribuito anche esso a creare una situazione sfittica nel centro storico. Chi sta commercialmente morendo con negozianti più sconfortati che mai? Dobbiamo tentare questa terapia estrema per far rinascere il centro e per garantire a tutti di poter vivere meglio nella città e per i commercianti anche di poter lavorare meglio. Grazie a tutti.